I carabinieri di San Giorgio del Sannio hanno arrestato un 37enne proceduto al sequestro preventivo degli account dei social network dello stesso. Le indagini in particolare, iniziate in seguito alle condotte poste in essere dall'uomo a partire da agosto 2021, nonostante lo stesso fosse già stato arrestato in flagranza per reati simili nel mese di gennaio dello stesso anno. L'attività investigativa condotta sinergicamente da carabinieri e polizia di Stato, in ogni caso si è concentrata sull'ascolto della vittima e delle persone informate sui fatti, nonché sull'estrapolazione ed analisi dei contenuti multimediali pubblicati dall'uomo sui social network e in molti casi connotati da un tenore diffamatorio, ingiurioso e soprattutto gravemente intimidatorio. Ne è emerso un contesto caratterizzato da plurime condotte moleste e minacciose, tali da produrre un grave pregiudizio alla tranquillità della persona offesa, costringendola persino a modificare le proprie abitudini di vita. Sulla scorta agli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha emesso pertanto il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari, ravvisando il pericolo di condotte recidivanti. Contestualmente ha disposto anche il sequestro preventivo degli account sui social network, mediante i quali erano stati pubblicati contenuti multimediali illeciti, considerato il pericolo di protrazione delle conseguenze dannose di tali condotte.